Musica Bentornati a Quella Zampa, oggi parliamo di cane e sport perché è importante e imprescindibile far fare attività fisica al nostro amico a 4 zampe per tutta una serie di motivi legati chiaramente alla salute e vale la stessa cosa che vale per gli esseri umani. Lui è Bubi, giusto? Bubi è già famoso, no? Bubi ha ricoperto pagine intere del nostro giornale locale, la mascotte di Ottica In è un cane super sportivo, un cane che fa sci alpinismo, che si tuffa dalla barca, che traina in biciclette. Com'è Bubi? Più sportivo di noi sicuramente, Cristina. Bubi è un labrador meraviglioso che ha 5 anni appena compiuti e come vedete è in forma smagliante grazie appunto a una massa muscolare che è allenata costantemente fin da quando era un cucciolone. Nonostante questo, quello di cui volevo accennarvi è che anche i cani sportivi possono necessitare, come pensiamo ai calciatori, ai pallonautisti, negli umani, possono necessitare di qualche trattamento per mantenere in salute tutto quanto il loro apparato scheletrico e la muscolatura così sotto esercizio. In particolare infatti io tratto la chiropratica in veterinaria, che è una disciplina molto poco conosciuta in Italia, che consiste in delle manipolazioni che si eseguono sulla colonna vertebrale del cane e anche nel cavallo principalmente, che sono delle manualità in dolori e che sono molto piacevoli anche per i nostri amici a quattro zampe, che servono non solo in patologie quali artrosi e comunque delle paratopie dei dischi e quindi a volte anche nelle ernie, come terapia del dolore, ma serve anche appunto in cani sportivi per cercare di ristabilire la mobilità dei segmenti vertebrali e quindi aggiustamento, così si chiama il click, chiamiamolo, che io vado ad eseguire tra un segmento di una vertebra e l'altra, fa sì che si riattivi tutto quanto un sistema nervoso, magari non utilizzato, e si riattivi al meglio la fisiologia del muscolo, anche dell'apparato scheletrico del nostro cane. Quindi Bubi, oltre ad indossare occhiali da sole, lenti a contatto, sole di montagna, sole di mare, piuttosto colliri, qualsiasi, non gli manca niente da questo punto di vista, ha anche una sorta di fisioterapia personale, questo si può usare questo termine? Guarda, era esattamente quello che volevo dirvi perché chiaramente la chiropratica è un pochettino più complessa rispetto alla fisioterapia, però visto che la fisioterapia è più conosciuta, la fisioterapia va a lavorare su una localizzata aria, la chiropratica serve per ricreare un equilibrio generale e riportare a un benessere, a quella che chiamiamo l'omeostasi, l'equilibrio naturale del corpo e del sistema nervoso. È importante fargli fare movimento, questo è il messaggio che volevamo anche trasmettere, giusto? È importante muoverli, farli muovere, perché tanti magari sono più anziani o indifferentemente, però è importante muovere l'animale? Assolutamente sì, anche nel post chirurgico, infatti nelle fasi riabilitative il fermare il nostro cane è tante volte un problema e fare dei movimenti seguiti tramite il vostro medico veterinario è assolutamente raccomandato per evitare dei danni ancora maggiori che può dare l'immobilità del loro sistema scheletrico. Allora grazie Giulia, dottoressa Giulia, grazie Bubi, meraviglioso Bubi, grazie a voi per l'ascolto, mi raccomando adottate, quala zampa? Grazie a tutti! Grazie a tutti!